Tu, se non c'è da lavorare, c'è qualcuno che ha moriato di riposare. Se vi racconto la storia di un posto che non c'è C'è qualcuno che ha volato giocare con me Durante il divino ufficio non sarà lecito agli osti e bettoglieri Di dare ricetto nelle loro oserie e bettole A qualunque sorte di persone eccettuati Eccettuati per oli forestieri che in città si ritrovano Mi? Venio dal Mas dei Brai E mi dal caso E' l'amor Non mi accontentam del bospe seton E' il Franceschini? Ma è buono E' il Franceschini? E' il Franceschini? E' il Franceschini? E' il Franceschini? Grazie a tutti